Si è appena conclusa l'assemblea dei lavoratori della Celta in previsione dell'incontro al Mise, quali sono state le considerazioni? Sicuramente noi volevamo affrontare un percorso con loro che andasse dall'inizio alla fine perché con i lavoratori bisogna sempre condividere certi percorsi complicati. Questa è un'avvertenza iniziata male dove l'azienda ci proponeva una cessione per poi scoprire che non c'era un acquirente, non c'era un piano e soprattutto non c'erano garanzie né per chi dovesse essere ceduto ma neanche soprattutto per chi doveva rimanere nella vecchia azienda. Ci proponevano di rinunciare al sito di Tortoreto e perdonare una condizione inaccettabile perché c'è un know-how all'interno di questa azienda che non va assolutamente sprecato e quello che noi chiederemo oggi al Ministero è l'impegno affinché venga trovato un acquirente che possa presentare un piano serio e salvare il sito con tutte le capacità e le conoscenze dei lavoratori che ci sono. Altra cosa da chiedere è il rinnovo degli ammortizzatori sociali perché sono in scadenza e quindi in una regione che rientra anche nell'area di crisi complessa e che quindi sicuramente non è florida dal punto di vista delle attività produttive, creare ulteriori drammi sociali è una cosa assolutamente da scongiurare. Siamo consapevoli che l'incontro di oggi sarà interlocutorio però ci aspettiamo che il Ministero da subito si faccia carico della vertenza con il Ministero chiaramente la regione perché poi le forze politiche tutte devono ragionare per il futuro della Celta. L'obiettivo principale è il rinnovo della cassa integrazione in scadenza a giugno perché comunque dalla cassa integrazione può passare la permanenza in vita dell'azienda che è l'obiettivo di tutti. Per cui oggi ribadiremo questa richiesta, ribadiremo che secondo me l'azienda è un'azienda che ha mercato, che ha futuro e che deve essere sostenuta perché venga rilanciata. Qual è il clima che si respira in questo momento tra gli operai? Gli operai chiaramente continuano ad essere preoccupati perché non abbiamo ad oggi purtroppo risposte da dargli e chiaramente ci aspettiamo che il Ministero ci rassicuri e ci faccia sì che gli animi migliorino un po'.